salve a tutti siamo qua io francesco fusillo e maurizio barangoni a spiegare come in una macchina windows come questa è windows 10 ma la guida che stiamo facendo vale anche per windows 7 e 8 si può partizionare il disco fisso in questo caso il disco c il disco c che è un disco di 465 giga questo è un disco esterno si può partizionare utilizzando assolutamente windows quindi windows partiziona il proprio disco fisso ecco vedremo come si fa abbiamo preparato questa guida scritta che aiuta fate uno screenshot in modo che i passaggi possono essere risseguiti allora avviare windows ovviamente in cortona scrivere formata come cortana cortana dall'elenco scegliere formata le partizioni del disco a questo punto si apre la finestra gestione dei dischi ecco e allora marita osservare bene il disco fisso e le sue partizioni perché guarda come diceva maurizio le partizioni normalmente in questo caso c'è un windows pulito quindi c'è una sola partizione ma normalmente nei dischi si trovano varie partizioni backup ripristino dati in alcuni casi quindi la partizione su cui incidere è quella dove risiede windows che di solito è anche la più grande la più estesa bene allora scegliere la partizione più grande e fare clic col tasto destro su questa partizione e scegliere e ridurre volume dalla finestra che si apre poi adesso lo vedremo perché lo facciamo quindi attendere che pc calcoli quanto posso ridurre appunto come diceva prima maurizio può succedere che il pc usato infatti può capitare che in pc pieno di dati non ci sia spazio sufficiente per creare quella zona libera per poter installare i sistemi operativi linux ma in quel caso lo dice pc pc che non si può partizionare allora bisogna cambiare disco intervenire in altro altro modo nessuna macchine recenti vendute con dischi fissi troppo piccoli vale la stessa cosa il computer dice che non si può partizionare per la mancanza di spazio quindi macchine con 30 giga che adesso vengono venduti a basso costo 60 giga di disco fisso considerato che windows si porta via un bel po di spazio direi che non vale la pena neanche cominciare a partizionare per installare la macchina quel caso conviene togliere definitivamente windows e installare solo su di linux ecco quindi questo ragionamento di auto partizionamento funziona su macchine windows che minimamente abbiano 250 giga di disco fisso perché se si usa windows dopo un po che si usa con gli aggiornamenti software i dati la macchina non ha più spazio ecco e quindi alla fine dell'operazione si troverà una partizione libera non allocata e disponibile alla nuova installazione quando saremo in fase di installazione potremmo dire mi pare che sia la fase 3 al pc installati a fianco a windows o installati nella parte non allocata però in ogni caso non deve essere una partizione più piccola di 30 giga perché anche se sono di linux è leggero anche non è un sistema è un sistema operativo con un bel parco software e ha bisogno di un suo spazio per vivere quindi macchine che abbiano pochi giga liberi per installare su di linux è meglio non farle perché poi su di linux non funzionerà bene però adesso vediamo come come procedere allora apro cortana e scrivo for eccolo formata disco rigido è una voce del pannello di controllo si apre questo ambiente ecco questo pc come è fatto c'è un disco fisso c di 400 e 65 giga una parte riservata al sistema questo è molto pulito come partizione infatti c'è questa parte che è riservata windows e i dati non ci sono altre partizioni accessorie che di solito si trovano fatte dalle ditte che producono i pc per ripristino per calcolo dati per tante altre cose quindi di solito si trovano 7 8 partizioni però è questa su quella dove andiamo a intervenire tasto destro riduci volume un attimo che ci sia il tempo per fare il calcolo windows l'ha fatto già su 465 giga può ridurre tantissimo avete perché è nuovo appena fatta non c'è neanche un dato in questa macchina però io mi accontento di ridurla di 200 mila mega è scritto 200 milioni quindi 200 mega appena dico riduci macchina nuova è già fatto ecco non è il caso delle macchine usate perché ci dove deframmentare il disco raccogliere tutti i dati si può mettere anche qualche un bel po di tempo ecco la spazio non ha locato adesso il disco c è di 269 l'operazione è fatta è finita pronto per essere installata su deline nella parte non allocata e se vogliamo vedere il disco eccolo qua 269 giga ho tolto la chiavetta non si vede più e windows non vede la parte non allocata su deline la vedrà e chiederà di installarsi di c'è altro da dire morizia niente ecco seguite questa guida e utilizzare te il vostro windows per partizionare se stessa che è la cosa migliore da fare più semplice spazio spazio è anche perché lo stesso windows nel caso si voglia avere un sistema dual boot dice se c'è spazio di riduzione o non c'è se è possibile ridurre perché siano al rischio è che con altri sistemi come ci parte di su di linux noi partizioniamo il disco però alla fine non funziona più windows perché non da spazio di movimento lo spazio per un sistema operativo ed è accessorio a quello che lui usa deve esserci perché quando movimenta i dati deve avere spazio libero altrimenti il sistema si blocca non possono lavorare dischi fissi pieni al 90 per cento perché non hanno spazio di manovra dati è tutto per le guide iso di linux partizionare un disco con windows buona sperimentazione